Un pensionato di 66 anni, residente a Cene, è ricoverato in condizioni serie all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi. L'episodio si è verificato poco dopo le 16.30 in via 24 maggio a Cene, la strada che porta verso la Valle Rossa. L'uomo in sella al suo scooter Malaguti stava scendendo verso il centro del paese quando per cause in via di accertamento si è scontrato con un tir porta-container che procedeva in senso opposto. Il pensionato avrebbe urtato con il casco la parte anteriore del mezzo pesante, finendo poi a terra. È comunque sempre rimasto cosciente, soccorso da un'ambulanza della Croce Verde di Colzate è stato portato in ospedale per accertamenti sul posto per i rilievi carabinieri delle stazioni di Gandino e Fiorano.